pronta tutti ragazzi qua e mini scotch siamo tornati finalmente sul canale con un mio nuovo video e cos'è questo rumore beh niente siamo su 60 second e niente possiamo provare a iniziare un nuovo gameplay allora apocalypse facciamo normal praticamente ciò ha giocato già una partitina ma non ho capito molto quindi vediamo allora ok in nato fino alla morte di scritto tipo ok devo prendere gli oggetti quindi appena inizia il timer mi prendo gli oggetti ok prendi questo 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 è questo ok adesso mi devo prendere la torcia la maschera poi cosa prendiamo l'altro cosa c'è qui niente non lo so butte dentro intanto devo prendere la mia famiglia se non sbaglio timi timi vieni vieni presto 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 il calcio del scout oh posso prenderlo sto distruggendo la casa la cartina una cartina il fucile e c'è ancora un po non c'è posto presto 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 prendi qualcos'altro prendi qualcos'altro prendi lascia non c'è più tempo buttati buttati ho lasciato mia moglie e mio figlio dentro lo vero non importa ok esplosa la bomba e c'è un audio assurdo vista rompendo e allora vediamo un po come va a finire giorno 1 ok siamo mio padre si siamo io e timi vediamo un po cosa ci dice qua malissimo abbiamo solo una provvista d'acqua allora timi è salvo ma come va blablabla e dolore semerige e sono morte e vabbè il primo giorno non mangiano niente ok e non succede niente niente di rilevante primo giorno vediamo come va a finire noi abbiamo già la barba va bene we stop and timis ok niente di importante anche oggi non si fa niente mi aspetterei prima di mandarli fuori praticamente con quello si poteva scegliere chi mandare fuori per prendere provviste oggetti vari ok abbiamo molta roba perché abbiamo una torcia la mappa per vedere dove siamo il fucile lascia la maschera gas e un po di da mangiare some water for timi ok allora dj che è noti mi trovo domani cibo e non mandare neanche in missione adesso ah dobbiamo prendere qualcosa ok vediamo un po vediamo un po tormono figata allora vediamo sempre un po no one sure perché perché la maschera ho detto di prendere la torcia e diamo un po di acqua tutti e due e siamo a posto io direi di preparare una spedizione per domani e andiamo a vedere un po così come va la spedizione per domani mandiamo timi che è l'uomo di casa e gli diamo un po da mangiare a tutti e due e un po da bere a lui timi vai si è sentito per la porta e vediamo un po a posto no tu non mangi niente oggi e siamo a posto neanche oggi è tornato timi if tim if ted doesn't drink anything you want to last long settimo giorno no 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 non bere ancora bevi domani va non possiamo metterci in contatto con il mondo esterno perché non abbiamo non abbiamo la radio e non possiamo farci niente andiamo un po da bere adesso non puoi usare niente mi dispiace ci saranno i ragni adesso gli scarafacci galattici la bottiglia la bottiglia la bottiglia la bottiglia ormai io cosa dobbiamo fare non riesce a dormire va bene dai curati che ti devo dire niente non è successo niente niente da riportare c'è scritto comunque è un bel gioco ditemi se mi piace sennò cambiamo tranquillamente andiamo su mortal kombat da soli però dai ragazzi ci proviamo è veramente triste speriamo che tim mi torni è tornato si è sentito aprire la porta ha portato un sacco di roba ha portato ha portato due di cibo due di acqua perfetto una radio perché c'è una ma perché c'è una macchina ah non posso dare niente dai beviamo tutti e due mangiamo tutti e due così siamo a posto mettiamoci in contatto col governo dai va bene proviamo non si sa mai cerchiamo di sopravvivere il più possibile niente da dire anche oggi ok sembrano sopravvivere ho bevuto due giorni fa e ho mangiato sempre due giorni fa ok e quindi possono sopravvivere anche un po' tipo alla varicella o cose del genere ma si dai timi non riesce a resistere ancora un po' in acqua c'è il super babbo ok dai beviamo un po' adesso perché sennò veramente ci muoiono tutti tutti e due dobbiamo bere bevete tutti e due e mando tè in missione non posso farci niente dieci e settesimo giorno ma ragazzi metà mese è andato già possiamo sopravvivere ancora dai no 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 senza avere vai 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 tu in missione per quindi portare più roba possibile per favore quanto rimarrà fuori non si sa come è veramente affamato ma si è mangiato il giorno prima no dormi bravo dormi anche oggi niente da dire andiamo avanti veloci si 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 ho sbagliato non ho letto perché questo e perché Timmy è di nuovo mi ricordo quando avevo l'ultima volta tanto a mangiare non fa mai male abbiamo un sacco di cose ha sentito dei rumori fuori proviamo ad andare con l'accetta non si sa mai però Timmy non è tanto cos'era sto rumore perché non abbiamo più l'acqua ah ok ce l'abbiamo comunque non possiamo giocare mi dispiace niente dai ti prego dimmi che il padre è tornato no nulla proprio zero neanche niente oh ah ci sono degli scarafaggi mutanti tipo dobbiamo sparargli spariamogli c-c-perché è rotto adesso ah ha sparato gli è esploso il fusione in mano bene tiriamoci in contatto con il mondo esterno e domani dobbiamo bere è tornato il padre attenzione cosa ha portato un sacco di cibo Timmy ha rotto la radio mannaggia Timmy ha rotto la radio uno di cibo due di acqua e un libro è buono beviamo tutti e mangiamo tutti due perfettamente Timmy non può andare ok c'è qualcuno che ci sta chiedendo tipo di camminare no no si oh dai andiamo chi se ne frega ma si tutti felici ah Timmy è uscito per gli bici mi sa che l'hanno rapito vabbè andiamo avanti sopravviveremo anche senza oh mi sa che veramente l'hanno rapito ma speriamo ovviamente di no non possiamo uccidere gli scarafaggi malefici malefici infatti di questo tipo li troveremo no stranamente non li troviamo ancora non può può già andare in missione ma io aspetterei io aspetterei vediamo se si può fare qualcosa Timmy non torna mi sa che è andato via per sempre ventattesimo giorno oh no 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 niente dobbiamo bere perché se no mi muore mi muore disidratato questo tizio ha fatto gli almini morti per terra sul prato se l'avete visto Timmy è andato aspettiamo domani poi mangiamo e niente che c'è no ragazzi mi è morto Ted perché mi è morto Ted mi è morto Ted ha morto no addio pomerino boh ragazzi io direi che il gameplay può finire qui abbiamo fatto una partitella se ne volete altri scrivete un commento e mettete mi piace e niente noi ci vediamo domani con un prossimo video brutto a tutti ragazzi ciao